imparate a fare il bene cercate la giustizia rialzate l'oppresso fate giustizia all'orfano difendete la causa della vedova poi venite e discutiamo dice il signore anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve anche se fossero rossi come porpora diventeranno come la lana libro del profeta isaia capitolo 1 versi 17 e 18